Benvenuti al Friggy Friggy Show Per ora sono solo soletto E sto vagando per la città A breve dovremmo incontrare un rivolo Un rivolo hotello Eccolo eccolo Ha avvistato il rivolo hotello Ha avvistato Sta parlando a telefono Sto facendo un video per il tuo canale E niente Al Grau c'era una tizia amica di Marco Mi stai accegando E al doppio volto c'era un duo Un qualcosa di merito Di chi starà parlando? Va bene dai E soprattutto con chi starà parlando? Vabbè Facciamo che ti chiamo Tra dieci minuti A intervalli da cinque minuti Ok Esattamente Vai Ok dai Inizio a chiamarti fra poco Ciao Ciao Gì Che stai? Ciao Saluta Freakie Show Ciao Freakie Pratio Non sapremo mai con chi parlava a telefono Non lo dovevi dire così stappavo il video Ora lo sanno tutti Ma chi sarà mai questo Aldo? Aldo Giovanni e Giacomo? E' tutto da questa notte Da Freakie Show Freakie 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 show Freakie Freakie